Assessore Aguzzi, il Consiglio regionale ha approvato di recente la legge sui parchi, un'approvazione che ha suscitato molte polemiche. Come possiamo rispondere? Io rispondo dicendo che sono sinceramente meravigliato di queste polemiche fatte e portate avanti in particolar modo dal gruppo regionale del Partito Democratico e ho sentito in queste ore più volte anche il sindaco di Pesaro Ricci. Perché sono meravigliato? Perché noi per capirci abbiamo tre parchi regionali che è uno quello del San Bartolo, il comune di Pesaro di Gabecce, uno quello del Conero, comune di Nubana, di Sirolo, di Ancona e quello della Gola della Roscia che comprende una serie di comuni. Questi tre parchi che sono finanziati al 100% dalla regione Marche sono però organizzati in maniera molto difforme ad esempio quello della Gola della Rossa non ha un ente parco, non ha un CDA mai gestito dall'Unione Montana, quello del Conero ha un CDA di 9 persone, quello del San Bartolo ha un CDA di 5 persone. In ognuno di questi parchi la regione ha un solo rappresentante, benché noi, come dicevo, finanziamo il 100% delle spese che portano avanti e glielo ho anche aumentate l'ultimo anno perché giustamente occorre garantire una buona funzionalità di queste realtà e non riusciamo ad incidere quasi per nulla sulle scelte perché appunto siamo come regione in netta minoranza. In questo caso cosa si è voluto fare? Si sono uniformati i tre enti parco, quindi anche quello della Gola della Rossa sarà un ente parco così al pari di quello del Conero e di quello del San Bartolo, non sarà più gestito dall'Unione Montana. Quindi noi creiamo tre antiparchi con consigli di amministrazione di 7 persone l'uno, uguale in tutti e tre i casi. Ci tengo anche a dire che non percepiscono nulla i consiglieri, quindi non è che aumentando di numero come facciamo sul San Bartolo noi abbiamo un aggravio di spese perché non percepiscono nulla i consiglieri degli antiparchi. E la rappresentanza della Regione Marche la portiamo a tre consiglieri su sette, e quindi lasciamo tranquillamente piena legittimità e rappresentanza ai comuni dei territori dove sono gli antiparchi, così come oggi, aggiungiamo semplicemente due consiglieri alla Regione Marche perché è giusto che la Regione possa direttamente incidere ed interpretare le esigenze di questi territori. Oltretutto sentendo il Sindaco di Peso che dice ma qui si va a ledere la rappresentanza territoriale, ma guarda che sicuramente anche i rappresentanti che saranno indicate dalla Regione Marche apparterranno a quei territori perché è giusto che appartengano a quei territori.